Volevamo entrare forte, volevamo abbassare l'attenzione dello stadio. Come abbassa l'attenzione? Abbassa segnando o abbassa dimostrando tranquillità e controllo della partita. Abbiamo fatto questo, non abbiamo segnato purtroppo. Abbiamo avuto quella grandissima opportunità di Paolo dopo l'annullato a Smalling. Però lo stadio ha sentito che era molto difficile per loro. E noi ogni minuto che passava, più tranquilla la squadra era. Era un sforzo tremendo dei ragazzi, una grande prestazione collettiva, individuale. Siamo ovviamente molto molto felici anche per tutti i romanisti che hanno viaggiato qua. Stadio bellissimo, avversario di qualità. Penso una bella serata europea. Non abbiamo segnato, mister, però non abbiamo neanche subito gol. È successo l'andata, è successo anche stasera più difficile. È un bel segnale questo. Siamo una squadra che quando sta concentrata, che quando difende come squadra, siamo una squadra che non è facile per avversari. Oggi è una concentrazione totale, un spirito di collettivo dove tutti partecipavano con i suoi compiti. Veramente una grande prestazione dei ragazzi. Grazie a tutti.